La metodologia di insegnamento che ci hanno trasferito è molto interessante. Ci sono tanti aspetti, nonostante insegni da un po' di tempo, abbiamo un po' di esperienza, un po' di anni di esperienza, ci sono tanti aspetti nuovi e che ovviamente cercherò di applicare perché mi siano davvero molto interessanti. Una delle tante cose che mi hanno interessato, che mi hanno colpito, è una cosa che hai detto Ian ieri, è una cosa che magari pensandoci verrà scontata, cioè il fatto che magari non sempre si applica tutta la metodologia, non si applicano tutti gli step previsti dalla metodologia, ritornando in classe, però conoscerli bene è un punto di forza, cioè saper giostrare tra i vari aspetti della metodologia di insegnamento è sicuramente un punto di forza. E un'altra cosa carina è che siamo noi, istruttori, che conosciamo bene la metodologia e che abbiamo dei razionali, conosciamo i razionali. Gli allievi devono fare solo esperienza, non devono per forza sapere che cosa c'è dietro, devono solo fare esperienza e vivere quello che gli proponiamo. Questa è una delle cose che mi hanno colpito di più, però ce ne sono mille, in 28 giorni ce ne sono davvero tante. Il gruppo è bellissimo, spero di essermi integrato bene, a me è fatto un'ottima impressione, mi è piaciuto e basta.